Renzi non ha assolutamente capito la lezione della crisi del 2008. Tutti si stanno chiedendo in questo momento se siamo usciti dalla crisi o no. Io quello che dico è, abbiamo capito la lezione di questa crisi, abbiamo capito che la dobbiamo smettere di sperperare i soldi delle tasse degli italiani e prendere quei soldi invece e investirli nei settori che creano lavoro e che creano benessere per le famiglie italiane. I settori ce li dà la matematica. Oggi un miliardo di euro investito in petrolio crea 500 posti di lavoro. Un miliardo di euro investito nella ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e privati che abbiamo, significa far abbassare i consumi degli edifici, porta 17.000 posti di lavoro. Ma se uno arriva al governo, la prima cosa che deve fare è seguire questi dati e dire io investo soldi delle tasse dei cittadini lì dove mi porta maggiori ricavi in termini lavorativi. Perché non si fa? Perché le campagne elettorali di Renzi, come di Letta, come di Monti e come di Berlusconi, gliele finanziavano sempre o le compagnie petrolifere o per esempio i Riva dell'Ilva. Torniamo alla domanda iniziale. Perché qui si sono fatti sette decreti legge per salvare l'Ilva di Taranto? Perché Riva, buonanima adesso ci sono i figli, dava i soldi in campagna elettorale, c'è scritto, non è retroscena, dava i soldi a Berlusconi e a Bersani per finanziargli la campagna elettorale. In cambio di cosa? In cambio di protezione. Ed è per questo che ci ritroviamo nella situazione assurda in cui i cittadini di Taranto chiedono 10 miliardi di euro di risarcimento danni per i danni causati dai fumi dell'Ilva e loro fanno un decreto che evita la possibilità di avere il risarcimento ai cittadini tarantini.